Ciao a tutti raga e benvenuti sul mio canale. Oggi porto un nuovo video su Farming Simulator 22, un riassunto dalla live. Vi auguro una buona visione. Che belli sti cavalli. Prendiamo questi due e poi andiamo anche nell'altra serra. Vediamo se non faccio danni. Vai, preso, sollevo. E questi sono meloni. Poi i man... oh, eccoti. Ciao. Ciao. Ops, ho un problemino. Cosa? Milena ha spintare da solo. Ok, arrivo. Ando leggermente col muso lì in giù. Arrivo, arrivo. Madò, che bella posizione. Che bella posizione. No, a posto. Acqua sicuramente. Poi io direi di fare un giro anche di semi fertilizzante. Ok. Cosa preferisci? Andare a prendere i semi fertilizzanti in magazzino o l'acqua? Come preferisci? No, per me non è che cambia. Allora vai... Sai quel rimorchio grande? Ok. Compra magari... 5-6 di semi e 6 di fertilizzante. Non so che fertilizzante vogliono. E caricali lì e portali in farm e dargli l'SR. Ok. E io faccio due cili d'acqua. Fertilizzante sodido. Ok, prendi quello. Tanto puoi caricarlo a mano. O se vuoi andare con sto trattore così lo fai più realistico se proprio vuoi. Ok, così. E che ho già fatto il John Deere attaccato. Ok, perfetto. Hai voglia di vedere quanto costa ripararlo prima. Ok. E' qua vicino quello per riparare. Se non costa troppo riparalo pure. E uno è fatto. Dai che sono vicino a casa. Cioè nella farm. Crea un giretto. Mi avrei già visto che avevo detto omaggio con questi qua lunghi orallati. No, ti sto guardando. Vai prova. Sono i miei preferiti questi qua. Io non riesco a guidarli all'indietro. No, come fai? Esperienza anche nella realtà. Sì. Uno. Oh no, le uova sono andate distrutte. Due. No. No, non ci sta. Ok. Oh no. Uno. Due. E questa dovrei farcela stare. Ok. Questa sopra. Oh, l'ho messa bene stranamente. Questa qui. E ancora uno. Sono tutte uova vendute. Sono tutte uova vendute. Come è nero. Veramente scuro. La colza. È scura. La colza è qua. Vediamo quanto è pieno. Vediamo. Non so quanto ce ne stia dentro, sinceramente. Dove ero? Qua. 6.000 litri. Abbassiamo. Abbassiamo. Facciamo dei giri quadrati. Pieno. Vediamo qua. Oh, ha finito. Perché sto pezzo non l'hai fatto? Vai, fai questi pezzettini qua che non hai fatto. Che non capisco perché non li hai fatti. Ok. Mettiamo un po' di olio di ricolza. Oh, no, 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 no. Vai ancora un po'. Mettiamo anche questo dentro lì. Così facciamo un bel po' di olio di ricolza. Lì c'è ancora il bug dell'albero. Svodda. No, qua ho finito. Dove vado a mettere... Allora, dargli una lavata. No. Ma quel verde lì così è dall'usato? E' sporco. Abbassiamo perché c'è da falciare. L'erba è crescita molto più alta. Quindi, secondo me, bisogna aspettare di più. Anche se dici, pronto per la raccolta, bisogna aspettare ancora una volta. Proviamoci. Eh, ci sto riuscendo. Ci sto riuscendo. Sono una grande. Ma quanto sono brava. Lo scarico. Io vado sempre più avanti. Quindi, 35 mia erano qua. Dove, 10. Ok, andiamo a prendere l'altro. Vai lì indietro. Cerco di entrare dall'altro lato. Ecco, così. Scarico. Beh, sono entrata bene, vero? Adesso devo compattare. Devo compattare così. È tutto a posto. Dai, che ho quasi finito. Dunque, siamo a un 90.000 qua dentro. Bene, ho finito. Ok, raga. Io il video lo concludo qua. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Iscrivetevi al canale. Lasciate un commento con scritto cosa vi piace o cosa non vi piace. e attivate la campanellina delle notifiche. Grazie a tutti della visualizzazione. Buona giornata o serata a tutti.